Ciao a tutti e bentornati alla versione di Barley, il podcast che parla di grandi storie e grandi birre. Io sono Roberto e prima di cominciare la puntata di oggi mi raccomando iscrivetevi al canale. L'episodio di oggi prevede un ospite. Questo ospite è un produttore, regista italiano, nonché collaboratore fisso della versione di Barley e questo episodio si collegherà all'episodio precedente, quello in cui ho parlato dello sciopero degli sceneggiatori. Quindi perché ho invitato questa persona? Per avere la sua testimonianza di che cosa vuol dire passare da lavorare per il cinema o la televisione dal punto di vista di guadagni, residui, alzi, incassi, diritti d'autore, eccetera, a fare il salto sullo streaming. In più faremo anche una chiacchierata sull'intelligenza artificiale. Quindi partiamo e diamo il benvenuto a Igor Bidau. Ciao Roberto e ciao a chi ci segue da casa. Ciao Igor. Allora, ti ho presentato come produttore e regista e quindi se brevemente ci introduci la tua esperienza. Ho iniziato particolarmente tardi la mia carriera da regista. A 32 anni ho fatto il mio primo vero film. Ho fatto molto cinema dal punto di vista indipendente, quindi non mai alle spalle grandi produzioni. Se non uno di questi film è stato l'apice della mia carriera per ora, che era un po' più strutturato, quindi un po' più mainstream rispetto ad altri. Immagino che i tuoi primi film siano stati concepiti per la sala cinematografica. Assolutamente. Per la sala il primissimo film ha avuto una vita interessante in sala, perché partendo come film indipendente abbiamo ottenuto e ricevuto una grossa spinta dal territorio. Quindi è stato quello che ci ha permesso. Quale territorio? Il territorio che raccontavamo nel film. Ok, ok. Il mio primo vero film, diciamo quello ufficiale, la mia opera prima, era un film biografico sulla vita di un ciclista, l'unico gregario toscano di Fausto Coppi. Questo film l'hai anche prodotto? L'ho anche prodotto e l'ho anche distribuito, quindi ho seguito tutta la filiera. Hai seguito tutta la filiera. Ok, quindi da un punto di vista imprenditoriale, l'uscita nelle sale e la vita nelle sale di questo film, proprio a livello di guadagni, che cosa ti ha portato? Allora, posso, non faccio numeri, perché giustamente poi... Parliamo proprio di break-even o net profit, queste cose qui. Allora, devo dire che proprio usufruendo di questa spinta dal basso, e soprattutto anche perché era un periodo storico particolare, perché i social network non erano ancora... Di che anno stiamo parlando? Stiamo parlando del 2014, cioè il film è girato nel 2013, poi distribuito nel 2014. Stiamo parlando di un periodo in cui i social network non erano strutturati per fare advertising, quindi effettivamente facevano il loro lavoro. Quindi abbiamo usufruito anche di questa spinta social che ci ha permesso di allargare molto la nostra platea. Quindi abbiamo fatto dei numeri importanti a livello... C'è stato un profitto. C'è stato un profitto molto importante. E dopodiché, finita questa spinta dell'uscita in sala, abbiamo iniziato ad affrontare i successivi problemi, quelli legati alla vendita dei diritti d'autore. E in quel caso il primo obiettivo che c'eravamo posti era quello di riuscire a mandarlo in onda, in televisione. In televisione, ma televisione pubblica o la vecchia Sky o Telepiu, quello che era? Allora, in realtà già esisteva la nuova Sky. Ok. Però ovviamente noi avevamo delle ambizioni più alte. Quindi canali in chiaro. Canali in chiaro, quindi abbiamo fatto un tentativo con la Rai, non è andato a buon fine. Siamo riusciti però a metterlo in onda per due anni su Sky. Ok. Allora, se non ricordo male, i canali televisivi, sia in chiaro che non, stabilevano il prezzo di acquisto di un film in base al suo successo al cinema, al botteghino. Allora, questa è... Quindi c'era una proporzione onesta da un certo punto di vista. Sì, è una formula magica. Cioè, in teoria, il film quando esce in sala dovrebbe superare 20.000 biglietti. Ok. Quello è il, diciamo, la bandierina da superare, l'asta nel salto in alto. Perché una televisione ti veda. Ti veda e dica... Ok, quello è acquistabile. Esatto. Ok. Quindi il nostro obiettivo era quello, non ci siamo riusciti, ci siamo andati molto vicino, però ovviamente quello poi diventa un gioco di pubbliche relazioni, anche di successo del film. Perché, diciamolo, perché magari tutti non lo sanno, un distributore quando deve mettere un film dentro una sala cinematografica, cosa deve fare? Cioè, qual è il lavoro del distributore? Lo vende alla sala? Lo noleggia? Allora, il concetto produttivo è questo. Se io spendo uno per realizzare il film, ne devo spendere tre per promuovere il film. Ok. Questo significa che il distributore ha quell'onere lì. In un mondo ideale, questo mondo ideale non esiste, quindi, però la regola continua ad essere così. Ok, uno a tre. Esatto, uno a tre. E quindi significa, e poi per un produttore indipendente, dover affrontare la problematica di avere il triplo del budget per promuovere il suo film, per avere una speranza di avere successo. Perché fondamentalmente il proprietario della sala scommette sul film. Il proprietario della sala scommette, scommette solo e esclusivamente se tu hai le armi per poter vincere questa battaglia. Ok, quindi è come le band emergenti che si devono portare il pubblico nei locali. La prima domanda che ti fa è... Quanta gente mi porti? No, no, questo no, perché le sale, ovviamente, gli esercenti cercano di fare una programmazione di qualità. Quindi il film indipendente, se è veramente indie, lo portano malvolentieri. Ah, addirittura. Sì, non gli basta riempire la sala per un giorno, perché comunque ti squalifica la tua programmazione, c'è tanti fattori. Sì, quindi il film indie solitamente non lo prendono, a meno che non sia una sala parrocchiale, ma questo non è il nostro caso. Ok, quindi andiamo per i gradi. Il tuo primo film esce al cinema, riuscite a fare profitto, quindi rientrate di tutti i costi di produzione, riuscite a entrare nel catalogo Sky e dal catalogo Sky guadagnate dei residuals sui passaggi o che tipo di contratto fate? Allora, dal catalogo Sky tu usufruisci della CIA, quindi gli autori... C'è il diritto d'autore. C'è il diritto d'autore, quindi al di là della cifra a cui tu vendi il film, poi hai le royalties sul diritto d'autore. In base alla cifra di acquisto? No, no, no. Ok, ok. In base, quelle sono delle tabelle... In base ai passaggi? In base ai passaggi, esatto. C'è un minimo garantito, al minuto per dire... C'è un minimo garantito e c'è anche poi una lista delle visualizzazioni che ha avuto il tuo film. Il famoso Auditel. Il famoso Auditel, ovviamente nelle piattaforme più semplici perché hanno... Sai quanti abbonati hanno. Sai quanti abbonati hanno e sai quanti erano sintonizzati sul tuo film in quel momento. Quindi tu, essendo anche produttore, con il profitto del film 1 ti fai il film 2 e poi il 3, il 4, il 5, il 6. In teoria, in un mondo ideale, dovrebbe funzionare così. Così non è perché, ovviamente, il mercato cinematografico è, come abbiamo visto negli ultimi due anni, un mercato in evoluzione. Quindi io ti posso raccontare questa parabola discendente dal 2014 fino al 2023 perché l'ho vissuta sulla mia pelle. Infatti lì voglio arrivare perché con la nascita delle piattaforme streaming è entrato nel tavolo delle trattative questo nuovo soggetto che però ha delle regole tutte sue. Allora, all'inizio, delle regole molto soft perché lo streaming agli esordi era un posto dove parcheggiare il tuo film al posto del DVD. Quindi era vissuto come... Era comunque a fine vita. A fine vita. Aveva fatto il suo corso. Aveva fatto il suo percorso e quindi è infatti uno dei miei film di maggior visibilità, ancora vive... Ma dilli i titoli, almeno facciamo... Facciamo un po' di pubblicità. Eh beh, scusami. Allora, il titolo a cui sono molto legato è il primo ed è la storia dell'unico gregario di ciclismo, i Fosto Coppi, che mi chiamava Valerio. Ok. È la storia biografica, un biopic di Valeriano Falsini, che è un film che ha dato molte soddisfazioni anche perché ha vinto l'Oscar del cinema sportivo, ha girato tutto il mondo, è stato in onda anche su Skype per due anni, Sky UK. Quindi ha avuto una visibilità molto importante. E attualmente è disponibile su qualche piattaforma? Attualmente era fino all'altro giorno su Itzart. Poi sappiamo tutti la fine ingloriosa che ha fatto la Netflix italiana della cultura e è ritornato alla casa madre, cioè su Cili. Cili, lo potete guardare gratuitamente con la pubblicità perché Cili offre questa opportunità. Quindi vi consiglio di guardarlo. Mi chiamava Valerio su Cili. Ok. L'altro è quello di cui ti stavo parlando, è una commedia bianco di Babu Doyu che è stato distribuito da Lucky Red in sala, poi ha vissuto il suo giro su Sky, Sky Cinema, Sky 1 HD, poi su Now TV e ora è su Prime Video. Ok. Uscito su Prime Video dopo la distribuzione in DVD. Quindi anche lì a fine ciclo. Fine ciclo. Oggi invece il ciclo non esiste più. Il ciclo purtroppo non esiste più. Cioè lo streaming è diventata una sorta di ultima spiaggia. Cioè se nessuno vuole il tuo film alla fine accetti l'offerta dello streaming oppure c'è un margine trattativa? No, allora margine trattativa per noi produttori indipendenti non c'è. Non c'è. Non c'è, quindi noi si sottostano le loro regole. Quello che ti permette lo streaming è solo esclusivamente di avere visibilità e allungare la vita del film. Ok. A meno che il tuo film non sia comprato in esclusiva, quindi le piattaforme non partecipino in anticipo alla produzione, allora a quel punto ti ricavi una presentazione più onorevole rispetto agli altri film, ma nulla più. Perché poco cambia e questa è la cosa fondamentale. Sulle piattaforme, perlomeno per noi autori italiani, non c'è diritto d'autore. Ma questo è gravissimo, comunque è veramente assurdo. Questo è gravissimo, anche perché ti parlo di Bianco di Babudòio, il film che trovate disponibile su Prime Video, ha avuto una distribuzione worldwide, quindi su 130 paesi la cifra di... Il diritto d'autore è la considerevole. Pari a zero. Spieghiamo un attimo, quando andate al cinema e comprate il biglietto e pagate quel biglietto 10 euro, una piccola percentuale di quei 10 euro va alla SIAE che poi trasferisce quei soldi all'autore del film. In realtà ti smentisco, perché non è così. Ah, ok, ok, ok. Cioè noi associati SIAE, autori SIAE del cinema, siamo la ruota di scopita della SIAE, perché la SIAE nasce per tutelare i diritti musicali. Quindi che succede? Quel 13% nel tuo biglietto del cinema non va direttamente all'autore, ma finisce in un calderone che si chiama ecocompenso. Quindi quando il film italiano esce in sala, la SIAE prende il 13%, lo mette nel calderone e poi ridistribuisce a tutti gli associati SIAE in percentuale i biglietti staccati. Ok. Quindi questo non vuol dire che non arriva nulla all'autore, ma arriva in modo molto diluito. Ok, ok. Cosa diversa invece a livello di cinema, a livello internazionale. Quindi la SIAE cerca di acquisire i diritti d'autore del film distribuito in sala all'estero. A me è capitato, ho avuto la fortuna di distribuire i miei film in Russia e la SIAE ha fatto modo di restituirmi qualcosa del biglietto staccato in sala in Russia. Il vero guadagno dei diritti SIAE ovviamente sono i diritti in chiaro. Diritti in chiaro, cioè le televisioni. Le televisioni, quindi lì la SIAE... Allora io ricordo perché ho avuto un'esperienza in Rai che si parlava proprio di una cifra al minuto di messa in onda. Sì, è una cifra... Garantita tra l'altro. È una cifra alta, garantita, che equivale più o meno a una liquidazione di un normale operaio. Quindi significa che riuscire a mettere in onda il tuo film in prima serata sulle sei reti ammiraglie del panorama italiano ti permette di avere una piccola cifra nulla di paragonabile ovviamente a le cifre americane. Però il nostro panorama, considerando che siamo 66 milioni di abitanti, quindi è tutto ridistribuito percentualmente. Ora invece, appunto, c'è questo player dello streaming e nell'episodio precedente del podcast ho parlato dello sciopero degli sceneggiatori e gli sceneggiatori americani sono in sciopero perché vogliono fondamentalmente una fetta più grande della torta perché, come dici tu, non pagano il diritto d'autore, le revenues sono molto basse e calcolate su una quantità di iscritti cinque volte più piccola della reale quantità di iscritti di queste piattaforme e quindi gli sceneggiatori hanno spento i computer e hanno detto ragazzi, o adeguiamo i compensi o noi non lavoriamo più. Questo è un discorso complesso perché, come tutte le cose, dal punto di vista industriale e lavorativo, avrebbero bisogno di un'azione politica alle spalle. Quindi non solo a livello del sindacato, ma una visione... Biden si è esposto, Biden si è dichiarato pro artisti. Sì, c'è da dire anche una cosa, che anche Franceschini tentò di imporre la vendita dei diritti dei film italiani alle piattaforme. Non c'è riuscito nemmeno per le televisioni italiane alle piattaforme è stato il Don Quixote che combatte contro i mulini a vento perché qui si parla di colossi transnazionali su cui il nostro governo non ha nessuna giudiziazione. Noi siamo, in un certo senso, dipendenti da questi colossi. Cioè, noi spettatori non siamo forse la prima causa di questo sistema? Sì, siamo la prima causa... Cioè, abbiamo perso l'educazione alla scelta di cosa guardare e come guardarlo? No, abbiamo perso una cosa fondamentale. Abbiamo perso il gusto di vivere l'evento perché qualsiasi film, dal più bello al più brutto, sul grande schermo e nel buio e nel silenzio della sala, ha un alto impatto sulla nostra empatia, sul nostro essere umani. Assolutamente. Quindi, quando abbiamo deciso o quando ci hanno imposto di non poter più andare in sala, abbiamo perso il gusto principale della visione del film, cioè quello del grande schermo e dell'assenza della visione periferica che è quello che ti permette di essere all'interno del racconto. Non solo, c'è anche l'immersione totale perché se sei in pigiama, sul divano, col telefono in mano, i gatti, i figli, alla fine diventa un rumore di fondo. Quindi, io credo che il problema più grosso dal punto di vista artistico sia stato quello di farsi illudere, di avere una visibilità maggiore. Ma non è tanto quello, anche perché la vera arte trova sempre il suo flusso. Sì, 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 il suo letto. Il suo letto in cui scorrere. Quello che non trova il suo letto in cui scorrere è quello che noi chiamiamo industria. Sì. Però l'industria, scusami, ti interrompo, dico questo concetto, l'industria permette all'arte di esistere. Perché senza una grande industria non possiamo avere dei grandi artisti che sono... Assolutamente. Ma anche nel passato, cioè nel senso, i vari Michelangelo e Caravaggio venivano finanziati dalle famiglie ricche, non da botteghiai. Ed è questo il motivo per cui si sta perdendo la molteplicità di idee, perché ovviamente stiamo mettendo in mano tutto a dei monopoli in cui non c'è più quella sensibilità da mecenate di investire e scommettere anche su un'idea... Sul talento. Sul talento. Il cinema francese ci insegna tanto. Il ministero investe in tante opere orrende, bruttissime, ma fa quelle scommesse. Perché su dieci film brutti ce ne sarà uno bellissimo. Un bellissimo. Cioè abbiamo perso la possibilità di fare carriera con queste dinamiche dello streaming? E non solo dello streaming. Io voglio farti... Quando mi hai chiesto di intervenire ho pensato a una cosa ed è la democratizzazione del cinema avvenuta col passaggio dalla pellicola al digitale. Quello ha permesso di ridurre l'effetto elitario perché ovviamente lavorare in digitale abbassava i costi della pellicola. Quindi prima il regista doveva avere grosse disponibilità finanziarie perché i film costavano veramente tanto per via della pellicola. La cinepresa digitale ha permesso di abbassare questi costi e quindi ha permesso di estendere la platea di autori che si avvicinavano. Lo streaming ha fatto esattamente questo. Cioè ha aumentato ancora di più la platea di autori che si potevano affacciare a vendere il loro prodotto. Questo significa che più tu allarghi il mercato di produttori più aumenti la concorrenza ma questo non significa aumentare la qualità. Aumenti solo la quantità del prodotto. Purtroppo e per fortuna loro il cinema ora è relegato all'evento. Quindi da dopo la pandemia si va al cinema solo se il film rappresenta un evento per tutto il mondo. Solo se è un Marvel, un Avatar. Io ti faccio l'esempio di Top Gun Maverick che ha riportato tantissimo quindi ha salvato ma ha salvato il loro settore cioè quello americano dall'oblio e quindi ora tutti i film che escono in sala sono principalmente operazioni importanti americane. Italiane si ritorna alla quella piccola distribuzione fatta di eventi quindi i casti in sala. Ora per esempio io ho visto un film italiano dell'anno scorso che si chiama La timidezza delle chiome di una regista italiana che si chiama Valentina Bertani e la seguo su Instagram lei il film proprio lo accompagna per mano nelle sale delle città di provincia fa i Q&A quello che fa lei è veramente porta a porta è l'unica via per il piccolo film è assolutamente l'unica via non esistono più altre vie anche perché per volerti far vedere a livello di marketing mentre prima potevi investire dal punto di vista distributivo sui social network ora sui social network non puoi investire perché hanno esattamente gli stessi costi delle emittenti quindi ho della solita programmazione del tuo trailer sugli schermi delle catene di multisala che hanno un costo quindi io esisto solo se il mio film è visto da qualcuno se non è visto da nessuno il mio film non esiste però il film deve fare profitto il film è un prodotto industriale esatto quindi cosa hanno fatto tutti i produttori indipendenti? hanno cercato di abbassare i costi ma abbiamo visto che abbassare i costi non porta a niente non porta a nulla ma è una filiera non più sostenibile perché se un film costa uno e a 0,5 è finita no, non è finita non esiste nessun imprenditore di successo investe in un'impresa in perdita questa è la realtà delle cose allora prima quando parlavi dell'esperienza in sala hai toccato il tasto del fattore umano e ora passiamo a un altro argomento che è un argomento che so su cui sto studiando che stai studiando e stai facendo delle sperimentazioni che è quello dell'intelligenza artificiale perché nell'episodio precedente ho parlato della paura dei vari sindacati dei lavoratori del cinema negli Stati Uniti della possibilità che gli studios sostituiscano alcune figure artistiche con l'intelligenza artificiale è plausibile? nell'immediato no ma penso nemmeno nel futuro a patto che il pubblico non si faccia pendere dalla pigrizia però permettimi di dirti una cosa all'interno della serie di richieste degli sceneggiatori ai produttori richieste che sono la causa di questo sciopero c'è esplicitamente il divieto di utilizzare l'intelligenza artificiale quindi nel senso se loro inseriscono questa cosa in una serie di richieste che fanno parte di uno sciopero così d'impatto in un'industria l'industria del cinema mondiale vuol dire che qualcosa di concreto c'è i motivi possono essere due ora faccio il complottista dai dai uno può essere secondo me esclusivamente propaganda perché ora si fa un gan parlare dell'intelligenza artificiale e lo si fa più in forma di pubblicitaria quindi sembra quasi un'azione di marketing da parte di tante entità per spingere le persone a incuriosirsi dell'argomento questo te lo dico perché io ho fatto delle prove quindi come tutti sentivo questo termine intelligenza artificiale vedevo tutta questa preoccupazione nell'ambito dell'intelligenza artificiale quindi mi sono messo anch'io a lavorare a investigare a investigare e per l'appunto anche l'altro giorno mi è arrivato una pubblicità su un corso di formazione per creativi su come utilizzare l'intelligenza artificiale come strumento creativo quindi già c'è tutta una filiera dietro dell'industria per creare delle nuove figure professionali però scusa non è come usare un quattro salti in padella in un corso di cucina assolutamente sì infatti per quello vi dico ad ora in questo momento i risultati che ho ottenuto io con l'intelligenza artificiale a primo impatto sembrano ti stupiscono perché tu dici come è possibile che una macchina elabori faccio un esempio pratico vai allora l'esempio pratico è impartisco degli ordini all'intelligenza artificiale gli do il tema e gli do la filosofia del prodotto che voglio realizzare quindi gli faccio delle domande specifiche uno specifico per uno spot uno spot per un'azienda esatto uno spot per un'azienda e gli dico voglio fare il mio spot in azienda voglio vedere persone sorridenti e voglio fare qualcosa e dia l'idea che questa azienda è una grande famiglia quindi l'intelligenza artificiale elabora la risposta ti propone un voice over per commentare il tuo video e ti propone una serie di immagini da mettere in sequenza per realizzare il tuo spot pubblicitario quindi io faccio queste richieste eseguo gli ordini dell'intelligenza artificiale e creo questo piccolo prodotto che faccio girare nel mio giro di amicizie professionali quindi persone del settore che ha qui molti sceneggiatori il primo impatto per tutti è stato quello di stupore l'effetto wow e di paura poi dopo uno di questi alza la mano e inizia a porre dei primi dubbi effettivamente sull'input sul suo input abbiamo iniziato tutti a ragionare su quello che ha prodotto l'intelligenza artificiale fino ad arrivare alla risposta era un prodotto di una banalità sconvolgente quindi nell'era dei film marvel nell'era dei film prodotti in serie per creare un prodotto ogni tot mesi per portare il fan sfegatato della serie può inserirsi un generatore di frasi di dialoghi e di situazioni in questa maniera ma non può sostituire quello che è l'animo umano cioè quello di emozionare con dei simboli certo il cinema è fatto di scene madre che sono simbolicamente universali e che portano a accendere il cervello e ragionare su quello che abbiamo visto questa è un'intelligenza artificiale né ora né credo mai sarà in grado di farlo però in un contesto di una library filosoficamente infinita uno ogni venti prodotti può essere la banale invenzione di un'intelligenza artificiale perché probabilmente non se ne accorgerebbe nessuno no con la superficialità con cui si guardano le cose in streaming non se ne accorgerebbe nessuno e qui secondo me il rischio è reale il rischio è più che reale anche perché sappiamo benissimo che l'intelligenza artificiale ha anche una valenza sociale e politica in questo momento e il cinema risente di questa influenza quindi c'è una il mondo si rista rividendo in due quindi è uno strumento pericoloso nelle mani di poche persone perché poi il problema che ho non è creare il contenuto ma è la distribuzione del contenuto creato con l'intelligenza artificiale ma soprattutto metti il caso ti ho fatto vedere quel video di Morgan Freeman si infatti lo stavo per dire che proprio Igor mi ha mandato un video di Morgan Freeman rigenerato con l'intelligenza artificiale compresa la voce anzi ora ve lo facciamo vedere I am not ristos smell something does that make it real or is it simply the ability to feel I would like to welcome you to the era of synthetic reality collegandoci a questo video io tornando un po' al gioco del complotto precedente ma se fosse tra virgolette un'invenzione proprio da usare come leva su certe contrattazioni con gli artisti infatti cioè come per dire state buoni infatti è il primo motivo per cui ti ho detto propaganda perché può anche darsi che questo spauracchio dell'intelligenza artificiale non solo applicato al mondo però mai come in questo periodo storico i produttori hanno così tanto potere sugli artisti non era mai successo mai successa una cosa del genere soprattutto a Hollywood cioè gli artisti arrivavano sempre comunque a gamba tesa la generazione di Coppola Spielberg Lucas poi Zemeckis perché erano dei bravi ragazzi erano dei bravi ragazzi quindi erano stati in grado di creare un loro entourage non la chiamo lobby perché erano troppo pochi per essere lobby in cui si sono fatti valere sia perché erano delle persone che venivano dalla strada sia perché erano delle persone con dei caratteri molto forti questo manca un po' a tutte le generazioni di oggi quelle di lottare per i propri sogni ambizioni diritti però ti chiedo questa cosa cioè non è una provocazione una domanda tu non potresti fare un tuo sito dove metti il tuo film dove la gente paga 3 euro e se lo compra sono più disponibili a pagare 17 euro al mese e tra tutto c'è anche il tuo film e non spendere 3 euro per il tuo film se sono un regista di culto io io stesso ho pagato un film su un sito svedese di Tarkovsky Solaris la versione integrale con i sottotitoli in italiano l'ho pagato 7 euro e 90 perché lo volevo vedere assolutamente la versione integrale quindi quella che non aveva subito i tagli nella distribuzione italiana quindi un regista di culto può permetterselo un regista emergente farsi pagare 3 euro per uno streaming o farsi pagare 8 euro e 50 in sala per un evento creato quindi una distribuzione dal basso gli conviene lavorare in sala però torno al discorso che stavo facendo prima in questo momento è evidente che i produttori hanno troppo potere e questo potere glielo diamo noi perché il contatto diretto economico c'è tra noi e i produttori noi gli artisti li saltiamo quindi non ci vuole forse un'educazione diversa allo spettatore al consumo di questa di tutto questo mondo che sta andando in una direzione cioè mi viene da citare veramente il capitalismo quello proprio selvaggio paradossalmente la nuova tecnologia ci ha riportato indietro di cent'anni sì il produttore è in questo momento l'industriale dei primi dell'ottocento sulla rivoluzione industriale che prende l'artigiano che è in grado di fare le scarpe lo mette dentro uno stanzone lo fa lavorare 18 ore e se sciopera sono botte sono botte quindi è questo il concetto ovviamente l'equità in un mondo fatto d'arte dovrebbe essere un principio fondamentale di tutte le anime che creano opere d'arte questo non succede perché io credo e sono sicuro che i produttori e i distributori non vengono da una formazione umanistica ma vengono da una formazione scientifica ed economica quindi uno più uno deve fare due e basta com'è possibile in un paese come il nostro dove il diritto d'autore comunque dove ti giri ti giri è presente ovunque nei libri nella musica un altro po' anche nel cibo cioè nel senso anche questi cuochi che sono diventati superstar i cui cognomi sono diventati dei veri e propri marchi com'è possibile che un paese come il nostro non riesca politicamente a imporsi sul Netflix di turno e dire ragazzi dovete pagare il diritto d'autore però questa è una risposta politica perché c'è un disinteresse cioè qual è il problema? no è sudditanza nei confronti del mercato e della cultura e degli intellettuali americani il cinema e l'arte si è adattata tu vedi ora tutta una serie di registi delle nuove leve le nuove generazioni italiane che hanno come riferimento il grande cinema americano non hanno più come riferimento i grandi nomi del cinema italiano non senti più nessuno dirti voglio diventare scola esatto scola zeffirelli e quindi voglio diventare robert rodriguez esatto o addirittura qualcuno ti dice anche dei nomi un po' meno blasonati quindi i punti di riferimento sono della cultura americana addirittura prima facevo ti ho fatto l'esempio di Tarkovsky quindi tutta quella parte di altro mondo noi siamo avanti del cinema coreano grazie a dio del cinema giapponese quindi grazie a dio un po' di cultura altra arriva e non siamo in grado soprattutto di raccontare la contemporaneità della nostra nazione quello è il problema più grosso è vero è vero le giovani menti non hanno più i problemi che avevano i nostri genitori cosa raccontiamo cosa raccontiamo questo è io credo sempre come tu ho detto il cinema l'arte trova il suo letto del fiume in cui scorre le storie devono avere qualcosa di vero da raccontare perché se no è cinema il cinema diventa d'arte industria e quindi nell'industria tu segui le leggi di mercato io nella mia esperienza lavorativa romana per un periodo ho lavorato con la persona che ha scritto il film Malizia e ancora gli arrivava l'assegno della CIA ancora gli arrivavano i diritti d'autore perché magari usciva come bellissimo di Rete 4 o andava sulla tv svizzera oggi secondo te il giovane sceneggiatore il giovane regista si deve approcciare a questa carriera come al one shot job cioè nel senso mi fai fare questo film ma una volta che questo film è su Netflix io con questo film non ho più niente a che fare sì non solo con tutta probabilità di cartucce poteva spararne una e basta perché è così mordi e fuggi il mercato mi viene da dire che c'è una grandissima leggerezza di spirito anche allora di questi ragazzi cioè che accettano queste condizioni non sanno forse come funzionava una volta no non lo sanno perché non c'è cultura su questo aspetto non si fa formazione le scuole di cinema ti insegnano la tecnica ti insegnano anche la burocrazia i tuoi diritti no quello non te lo insegna nessuno e ti devo dire anche che è difficile qualcuno che ti accompagni legalmente in quel processo quindi un regista e dovrà sapersi tutelare da solo o comunque fare una grossa ricerca per trovare un avvocato che gli permetta di avere le cose scritte bene sul contratto e la maggior parte dei ragazzi le nuove eleve ovviamente accetta qualsiasi compromesso pur di senza avere una formazione quindi non sta capendo che lo stanno prendendo in giro bene dai io ti ringrazio spero di non aver parlato troppo no no va benissimo così quindi ragazzi come dico sempre non accontentatevi di niente mettete da parte la mediocrità dei contenuti che non ne vale la pena siate curiosi non fermatevi da prima cercate l'eccellenza perché c'è ma ci insegnano che dobbiamo metterla da parte invece esattamente il contrario vi consiglio di guardare i film di Igor sulle varie piattaforme cercate il suo nome Igor Bidau esatto e niente ci vediamo al prossimo episodio siate curiosi non fermatevi da prima e buona bevuta ciao 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 Grazie a tutti